Buongiorno a tutti, buongiorno a tutti, ben arrivati. Allora, oggi vi do il benvenuto, spero che la mia voce vi arrivi forte e chiara. Vi do il benvenuto e vi introduco al webinar spettacoli e trattenimenti pubblici, procedure e atti abilitativi alla luce delle circolari ministeriali in materia di safety e security. Come potete vedere in aula con me c'è già il relatore al quale a breve passerò la parola ed è l'ingegner Mario Prince che è vice dirigente Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. Bene, in questo webinar siano state veramente tante le adesioni, vi ringrazio come al solito anche per la puntualità e hanno richiesto l'iscrizione ben 440 persone. In aula già stiamo toccando i 150 partecipanti. Dunque, mentre diamo modo a tutti i colleghi di collegarsi e di partecipare al webinar di oggi, cerchiamo di dire due paroline per inquadrare meglio questo percorso che stiamo facendo insieme già da un po' di tempo. Dunque, questo percorso fa parte dell'approfondimento e la divulgazione e se l'attuazione della riforma in materia di semplificazione amministrativa, misure introdotte dalla legge 124 del 2015 e dai provvedimenti attuativi. Fa parte del, è un progetto che è coordinato dal Gabinetto della Presidenza Giunta Regionale dell'Emilia Romagna in collaborazione con Formex PA, nell'ambito del progetto Pong Governance e capacità istituzionale 2014-2020 e del progetto supporto all'operatività in materia di semplificazione. Sempre nell'ambito di questo progetto, come molti di voi già sapranno, sono stati fatti diversi seminari e diversi cicli di webinar. Tutti questi li potete trovare nella pagina eventipa.formex.it progetto-formex-dettaglio-ms-17455 e qui potrete avere la pagina con tutto ciò che è stato svolto dal febbraio dell'anno scorso fino ai giorni nostri e in ogni link in azzurro potete poi collegarvi alla pagina dedicata e scaricare tutto il materiale che è stato prodotto. Per avere un'idea dei numeri che stiamo facendo in questo periodo, possiamo dire che il numero dei partecipanti che stanno seguendo i nostri seminari sono stati ben 1186, dislocati in diverse regioni italiane. I webinar hanno avuto al novembre del 2017 2560 adesioni. Il percorso dell'Emilia Romagna è quello che sta avendo più partecipanti in assoluto, dunque grazie a tutti. In quest'altra slide potete vedere anche il numero dei partecipanti, come sono stati suddivisi per categoria di regione e per le diverse regioni, potete trovare tutti i numeri in queste slide che saranno poi messi a disposizione nella pagina di eventi. Infine abbiamo anche classificato tutti voi partecipanti anche in base all'ente di appartenenza. Un altro progetto che sempre fa parte, nato dal PON Governance e dal supporto all'operatività in materia di semplificazione è la rete Italia Semplice, http.it.it.gov.it, che è una piattaforma al servizio del personale, dell'amministrazione, dell'associazione, delle imprese, dei cittadini, dei tecnici, di tutti coloro che si occupano di semplificazione per dare un supporto e delle informazioni. Questa rete Italia Semplice è stata messa a punto dal Dipartimento della Funzione Pubblica con il supporto di Formex.pia nell'ambito del progetto PON Governance, nello specifico i progetti Delivery Unit e supporto all'operatività della riforma. Per accedere basta cliccare sul pulsante Accedi, si usano le credenziali di DF e P-OUT e al primo accesso autenticato si entra direttamente nell'area di lavoro Rete Italia Semplice. Per accedere invece alle altre aree di lavoro che sono sorte come la modulistica standardizzata o la SUAP, bisogna cliccare su Partecipa. Questa rete offre anche altri servizi come guide, FAQ, documentazione e anche la possibilità di richiedere aiuto all'Help Desk, dunque tutto un insieme di informazioni e documentazioni molto importante per tutti coloro che lavorano in questo settore. Andiamo al percorso di cui parlavamo poco fa. Questo webinar fa parte del percorso, come dicevo io prima, per i funzionari regionali, antilocali, ordini professionali, un percorso coordinato dal Regione Emilia Romagna e le date che si sono avute fino ai giorni dossi, il 28 giugno con le misure di semplificazione amministrative introdotte dalla legge 124 del 2015 dei provvedimenti attuativi, per poi passare al 30 ottobre con il SUAP e la nuova disciplina della conferenza dei servizi e del procedimento amministrativo, il 23 novembre con la disciplina edilizia in Emilia Romagna, il 4 dicembre con la conferenza dei servizi in materia ambientale e infine l'ultimo, quello del 26 marzo, su spettacoli e trattenimenti pubblici, procedure atti e abilitativi, tabella A, decreto legislativo 226-2016, alla luce delle circolari ministeriali in materia di safety e security. Questo è un po' un proseguimento. Allora, ci sono io all'accoglienza per qualche minuto, come potete vedere dal programma che è stato pubblicato anche sulla pagina di eventi, poi passerò la parola al nostro relatore, l'ingegner Mario Prinze e alla fine, negli ultimi 20-30 minuti, ci sarà spazio per le vostre domande che potete porle tranquillamente in chat e poi le girerò io al docente. Allora, vediamo il programma di oggi. Parleremo della tipologia dei locali di spettacolo e di trattenimento, dell'agibilità, della documentazione tecnica per comprovare la conformità e infine la gestione degli spettacoli pubblici, alla luce della circolare Gabrielli. Qualche altra informazione, la chat come state utilizzando già voi per le presentazioni, la utilizzerete anche questo strumento per le domande o per qualsiasi cosa, sono io che gestirò i vostri messaggi e vi supporterò in quest'ora e mezza che staremo assieme e poi come al solito nella nostra pagina di eventi IPA dedicata a questo webinar troverete dopo l'evento la registrazione e per finire le slide. Ancora qualche altra notizia prima di darvi il buon lavoro e di passare la parola, ricordo a tutti che l'attestazione di parte di iscrizione avranno solamente coloro che risulteranno iscritti all'evento e che hanno fruito del 20%. Dopo l'attestazione che verrà fatta nei prossimi giorni potrete scaricare l'attestato autonomamente dalla vostra pagina di I miei eventi. A questo punto non mi resta che silenziare il mio microfono, dirvi buon lavoro e buon proseguimento e lasciare la parola all'ingegner Mario Prince. Buongiorno a tutti, le presentazioni sono state già fatte quindi diamo subito inizio all'esposizione che riguarda la gestione degli spettacoli di trattenimenti pubblici, spero mi sentiate, diciamo alla luce delle circolari che sono state emanate all'indomani poi degli eventi che sono caduti a Torino. Diciamo che una prima problematica che riguarda la questione degli spettacoli è capire innanzitutto in alcuni casi che cos'è un pubblico spettacolo. La definizione, ecco la vedete, riguarda locali e spazi in genere, quindi diciamo anche all'aperto dove si svolge un'attività che può essere permanente o temporanea dove il pubblico assiste quindi al spettacolo o ha una partecipazione diretta, quindi in quel caso si parla di intrattenimento. Un'elencazione di quelli che siano effettivamente i locali di spettacolo, attività di spettacolo in realtà non c'è mai stata. Diciamo che la disunzione di quali possono essere, quali siano questi locali è stata ricavata dalle normative che diciamo, negli anni in cui è stata emanata il testo unico di pubblica sicurezza, sono state poi emanate. La prima era una circolare del 1951, la circolare 16, che è una circolare che mettava tutta una serie di norme, requisiti, sia dal punto di vista della sicurezza, sia dal punto di vista igienico e dava una definizione di locale di spettacolo che vedete, diciamo, sembra un insieme di fabbricati, ambienti e luoghi destinati allo spettacolo nonché ai servizi ad essi annessi, quindi diciamo tutto ciò che era funzionale all'attività. la stessa circolare dava un elenco di quali fossero da intendere come locali di spettacolo, quindi dei classici teatri, cinema. Ecco, dava anche però, diciamo, un'indicazione, per esempio, altri locali di trattenimento, e qui c'erano le conferenze di trattenimento di danzanti, vedete che questa circolare indicava come locali di trattenimento anche l'esposizione e le mostre di fiere. In realtà poi, esposizione e mostre di fiere, diciamo, c'è stata un'evoluzione normativa e interpretativa dove ha visto queste attività escluse dal campo, diciamo, da una classificazione come attività di spettacolo, e quindi diciamo che queste qui non vengono più soggette ad autorizzazione come spettacolo. Ecco, diciamo, nella classificazione c'erano anche poi i luoghi all'aperto, vedete che come luoghi all'aperto dava un'indicazione su quelli che fossero questi locali, ma poi c'era un'eccedera, insomma, quando c'è un'eccedera uno ci può mettere e ci si mette un po' di tutto. C'è stata un'evoluzione normativa, diciamo, nel 1996 è stato emanato il decreto il 19 agosto che ha in buona parte sostituito, abrogato quella circolare 16 che abbiamo visto prima e, diciamo, come definizione di locale, insomma, dava la stessa definizione, però, diciamo, dava un elenco che, diciamo, nella maggior parte dei casi confermava la descrizione delle attività, però per quanto riguarda i luoghi all'aperto, che poi, diciamo, mi soffermo maggiormente sui luoghi all'aperto perché è dove maggiormente le circolari che trattiamo hanno, diciamo, un riflesso, perché, insomma, per i luoghi tradizionali, gli spazi al chiuso, è che ci siano grosse, diciamo, innovazioni. C'è un altro un po' dal punto di vista della security, ma dal punto di vista della safety, in pratica, non cambia assolutamente nulla. Quindi, diciamo, in un grosso impatto ce l'hanno sui luoghi all'aperto e quindi su questo mi soffermo. Quindi vedete che nella definizione di luogo all'aperto, diciamo che si classifica come spettacolo un luogo però che è caratterizzato da una delimitazione, quindi con un accesso che non è libero, va bene? dove ci sono attrezzato per, diciamo, lo svolgimento di uno spettacolo e con delle strutture dove il pubblico deve, può stazionare. Infatti lo stesso decreto esclude, vedete, dal campo di applicazione i luoghi all'aperto quale strade e piazze, diciamo, prive di strutture che siano destinate allo stazionamento del pubblico. Quindi un'area all'aperto, diciamo, non è, dove mancano, quindi per essere strutture non è considerata un'attività di pubblico spettacolo. Poi vedremo che c'è anche un chiarimento del Ministero che dice, nella sostanza, che per queste aree non è richiesto che la commissione di vigilanza esprima, diciamo, i compiti che è chiamata a fare, ma bensì vedremo, bastano solo alcune certificazioni per essere, affinché la manifestazione venga autorizzata. Diciamo che da questo decreto, ecco, si chiariscono poi altre situazioni che in passato, diciamo, potevano essere considerate spettacoli. Per esempio, siccome ci sono le conferenze, le sale di riunione, ecco, i locali destinati a riunioni operative, di associazioni, di enti, quindi partiti politici, sindacali, ma anche iniziative imprenditoriali, quindi io faccio un convegno dove, diciamo, promuovo il mio prodotto, promuovo una mia attività, diciamo, finalizzata più all'interesse aziendale, più che a una, diciamo, attività, appunto, di spettacolo. I pubblici esercizi, dove anche ci sono strumenti musicali, però, diciamo, manca l'aspetto danzante di spettacolo. Iniziamo a un ristorante dove c'è persone che suonano il piano e quindi le persone, mentre mangiano, diciamo, ascoltano, possono ascoltare anche della musica, ma non c'è, diciamo, un'area appositamente, diciamo, organizzata per assistere allo spettacolo o per, diciamo, ballare. Ecco, il karaoke è simile, ecco, la stregua sempre dei pubblici esercizi, quando non è allestita in appositi locali, diciamo, attrezzati solo per assistere, diciamo, al karaoke e la sala abbia una capienza comunque che non supera le 100 persone. Infine, ecco lì, le sale giochi non sono attività di spettacolo, quindi non sono soggette a un'autorizzazione ai fini dell'attività di pubblico spettacolo. Le normative che riguardano queste attività sono, diciamo, autorizzative e io mi soffermo come Vigile del Fuoco sull'aspetto della prevenzione incendiale, è chiaro che poi ci sono anche aspetti dal punto di vista sanitario. Per quanto riguarda la prevenzione incendi, c'è il decreto 151 del 2011 che stabilisce che, sapete che classifica le attività in base al rischio, stabilisce che le attività di spettacolo, ed è l'attività numero 65 della legata al decreto 100, diciamo, che abbiamo visto prima, stabilisce che i locali di spettacolo e trattenimento, sia a carattere pubblico che privato, con capienza superiore a 100 persone o anche locali al di sotto di questa capienza che hanno una superficie superiore a 200 metri quadrati, va bene, sono soggette al controllo dei vici del fuoco. Vedete che rientrano o nella categoria B o nella categoria C di rischio, quindi fino a 200 persone sono una categoria B, oltre le 200 persone sono una categoria C, quindi per tutte e due c'è l'obbligo, quindi per tutte le attività c'è l'obbligo di acquisire una valutazione del progetto non c'è, nonché poi produrre una scia prima di avviare l'attività. Vedete che sono escluse, comunque dal controllo, tutte quelle manifestazioni cosiddette temporanee, sul temporaneo c'è sempre stato un po' di dubbi, cosa si intende per temporanea, va bene? Per temporanea il Ministero ha, visto le notevoli richieste che ci sono state, ha inviato un chiarimento nel 2015 che dà una definizione abbastanza chiara su cosa si deve intendere per manifestazione temporanea, cioè sono quelle caratterizzate da una durata breve, ben definita, non sono le attività stagionali, quindi una discoteca estiva non può considerarsi un'attività temporanea e nemmeno quelle che ricorrono a un'organizzazione prestabilita, nel senso che se uno organizza un luogo dove fa delle manifestazioni anche una settimana, però ha un programma che si ripete con una certa periodicità già individuata, quella non può considerarsi come manifestazione temporanea, poi sappiamo che le attività di spettacolo hanno, diciamo, sono soggette ad autorizzazioni di esercizi di agibilità, questa autorizzazione ora viene rilasciata dai comuni, però per le attività di spettacolo c'è l'obbligo di una verifica da parte delle commissioni di vigilanza, che sono o provinciali o comunali, dopo le modifiche apportate al testo unico dal TPR 311 del 2000, allora le commissioni cosa fanno? Sappiamo, danno dei pareri sui progetti, verificano le condizioni in cui si trova il locale e quindi danno un giudizio di agibilità, accertano anche per la registrazione tutte le caratteristiche degli spettacoli viaggianti e vedete hanno, diciamo, anche rientra tra i loro compiti quella di fare un'attività di vigilanza, quindi un locale che è stato autorizzato può essere controllato, chiaramente anche così di iniziativa da parte della commissione per verificare che il locale venga gestito nelle condizioni in cui a suo tempo è stato verificato. Allora, la verifica dell'agibilità a seguito del TPR 311 ha ripartito le competenze, ha mantenuto in capo alle commissioni provinciali di vigilanza le verifiche nei cinema e nei teatri quando la capienza di questi locali supera le 1300 unità alle persone e tutti gli altri locali quando la capienza supera 5000 persone. Poi ha mantenuto anche la competenza per i parchi di divertimento e le attrezzature, però per quelli impianti dove le sollecitazioni sono importanti per gli spettatori e per il pubblico. Su questo però si attende ancora un decreto di concerto con il Ministero della Sanità perché bisogna individuare quali sono queste attrezzature, quindi di fatti sui parchi di divertimento le competenze vengono gestite anche dalla commissione comunale di vigilanza. La commissione comunale di vigilanza ha competenze su tutti gli altri locali, sappiamo che le commissioni comunali di vigilanza però possono essere istituiti anche in forma associata, però dove un comune non l'ha prevista, non si è associato con altri comuni, rimane in capo alla commissione provinciale di vigilanza la verifica di agibilità. Per snellire i procedimenti amministrativi il decreto 311 ha poi stabilito che per tutti quei locali la cui capienza non supera le 200 persone, la commissione sia comunale sia provinciale non interviene quando è sufficiente che chiaramente vengano attuate le disposizioni sanitarie ed un professionista che può essere un ingegnere, un architetto, un barretto industriale o un geometra diciamo presenta una relazione dove attesta che il locale risponde a tutti i requisiti di sicurezza previsti dalle norme vigenti. È chiaro che per questi locali comunque appunto per la vigilanza che rimane in capo alle commissioni comunali e provinciali questi locali possono comunque essere tranquillamente controllati e verificati dalle commissioni, quindi diciamo che l'attività di controllo può essere tranquillamente espletata anche per questi locali. per i luoghi all'aperto non delimitati perché abbiamo visto che le strade, i luoghi pubblici non delimitati sono esclusi dal campo di applicazione del decreto 19 agosto 1996 e il titolo nono vedete. Il comma 3 mi dice quali sono comunque quegli addendimenti minimi da produrre affinché l'autorità competente rilasci una licenza di esercizi. Sono l'idoneità statica degli allestimenti eventuali che sono stati fatti e una dichiarazione di conformità sulla esecuzione degli impianti elettrici aggiuntivi, nonché diciamo l'approntamento di idonei mezzi antincendio. Ecco, per l'agibilità vedete, ho riportato qui un chiarimento a seguito di una richiesta fatta dal Presidente della Commissione di vigilanza del Comune di Bologna in cui chiedeva, conferma del fatto che ci fosse o meno la necessità di una verifica della Commissione Comunale o provinciale di vigilanza per tutte quelle manifestazioni che si svolgono in aree pubbliche. Ecco, questo chiarimento del 2003 stabiliva che non c'era questa necessità, quindi di fatti riconoscendo che queste manifestazioni aperte, non delimitate, senza strutture per lo stazionamento del pubblico non siano da considerare attività di pubblico spettacolo, quindi non soggette alla verifica della Commissione. La documentazione che deve essere presentata, diciamo, che è una documentazione progettuale, una relazione e degli elaborati grafici in cui si descrive compiutamente quello che si fa, diciamo nel rispetto delle norme che abbiamo visto, quella adesso è il Decreto 19 agosto 96, poi c'è una documentazione che è da presentare in fase di verifica da parte della Commissione. La documentazione per la verifica, diciamo, riguarda sostanzialmente strutture, quindi palchi, corpi sospesi, torri audio e quindi una documentazione che descriva questi elementi e una certificazione, un collaudo o una certificazione di idoneta statica, una certificazione che riguarda le finiture, quindi i materiali che si adoperano, che riguardano dal punto di vista della reazione al fuoco, quindi tendoni, tendaggi, le sedie che devono avere delle caratteristiche, gli impianti, in particolare in primis gli impianti elettrici e poi, diciamo, sulle attrezzature che hanno una specifica funzione antincendio, quindi diciamo i mezzi di estinzione. Allora, cosa è cambiata, diciamo, dopo i fatti di Torino, quindi a seguito del circolare Gabrielli prima e poi Morcone per ultimo. Allora, prima ritorniamo al decreto 19 agosto 1996, va bene? Allora, abbiamo visto che il campo di applicazione del decreto 19 agosto 1996, quando si parla di luogo all'aperto, diciamo, si applica solo ai locali delimitati, va bene? Allora, per i locali, per questi locali, diciamo che il riferimento era il decreto 19 agosto 1996, quindi anche per le attività provvisorie, comunque questo decreto si applica e diciamo che da un punto di vista organizzativo, diciamo, ci sono degli adempimenti che riguardavano appunto la gestione di questi spazi, va bene? Vedete, individuava tutta una serie di, diciamo, verifiche che fanno, diciamo, in capo al responsabile dell'attività, di chi organizzava la manifestazione. Riguardavano, diciamo, queste incompenze gestionali, riguardano il sistema di via di esodo, il controllo eventuali del corretto sistema di apertura delle porte, nonché degli impianti e delle attrezzature di sicurezza, diciamo, le verifiche sui presidi antincendio, diciamo, l'efficienza degli impianti elettrici, diciamo, comunque c'erano tutta una serie di, diciamo, di adempimenti chiari, tra le quali poi c'erano, ci sono, ovviamente, tutta una serie di, diciamo, adempimenti anche per quanto riguarda, vedete, la formazione e l'informazione del personale che opera, quindi la necessità che nell'ambito della manifestazione, diciamo, ci sia personale adeguatamente preparato per gestire, per gestire, diciamo, un'emergenza, nonché, diciamo, delle istruzioni di sicurezza. Ecco, il problema, secondo me, che poi con le circolari che vedremo non è stato del tutto risolto, è sulle istruzioni di sicurezza. Secondo me l'anello debole di tutta l'organizzazione, è il fatto che il pubblico che poi è il soggetto che si tende a, diciamo, a tutelare in primis, che dovrebbe partecipare in forma attiva in una situazione di emergenza e che, se no, diversamente, uno può fare tutta l'informazione, tutta la formazione del personale che uno vuole, ma quando siamo di fronte a centinaia, migliaia di persone che, da un punto di vista della sicurezza, non hanno avuto nessuna istruzione, si fa fatica a gestire, diciamo, un possibile evento incidentale. Le istruzioni della sicurezza, normalmente, quando si parla di questo, si parla sempre di qualcosa, qualche piantino, qualche informazione, sappiamo benissimo che animetrie, istruzioni, anche nei locali permanenti, se voi mi dite una percentuale di chi si sofferma a leggere queste cose, io, diciamo, per le esperienze che ho, parliamo di poche frazioni di decimale, insomma, quindi il problema è come istruire il pubblico nell'ambito di un'attività di pubblico ospitale, questo è il grosso problema. E questo è un problema anche comunque per le attività ordinari, diciamo che lo sforzo che andrebbe fatto in futuro è quello di trovare un sistema, adesso dei tentativi si stanno facendo, nel senso quello di dare dei messaggi all'inizio dello spettacolo, quindi messaggi sul tipo di manifestazione, sul fatto che magari quindi diciamo che sull'istruzione di sicurezza è un campo in cui andrà sviluppato, andrà sviluppato anche sull'aspetto della formazione del personale, perché quando parliamo di formazione del personale ci rivolgiamo essenzialmente a una formazione standard che riguarda un po' istruzione, come comportarsi, come controllare, però sulla gestione delle persone, sull'aspetto psicologico, sull'aspetto comportamentale delle persone, sostanzialmente si fa poco. Quindi diciamo che l'invito è in genere a sviluppare maggiormente una problematica che riguarda appunto come coinvolgo il pubblico, affinché questo poi mi dia un suo contributo, perché diversamente gestire migliaia di persone senza che queste possano essere minimamente avere delle indicazioni, sapere un po' su come comportarsi, oggettivamente. Ecco, è previsto che ci sia un piano di sicurezza e quindi questo piano di sicurezza è dove individua un po' le procedure che ipotizzando dei possibili eventi incidentali da attuare per una mitigazione di quelli che potrebbero essere poi gli effetti sulla sicurezza di chi assiste a uno spettacolo. E anche chiaramente su questo c'è la problematica che dicevo prima. Quindi poi sulle modalità di chiamata, questa è una cosa abbastanza semplice, poi su un registro che dovrebbe permettere poi a chi fa eventuali controlli di verificare che tutto quello che è stato predisposto sia stato mantenuto in efficienza. Ecco, cosa è successo dopo, diciamo, le circolari? Quindi il prima, vedete, c'era qualcosa di strutturato su cui abbiamo detto che bisogna lavorare, ma riguardava, diciamo, la attività soggetta al decreto 19 agosto. Per l'attività che abbiamo detto, visto che non rientravano, quindi gli spazi all'aperto, quindi non delimitati, le piazze, prima non c'era nulla, va bene? Prima c'era, diciamo, un addendimento per chi, diciamo, gravitava attorno agli organizzatori, quindi lavoratori, quindi addendimenti legati anche al decreto 81, come tutelle generali su chi prestava la propria opera. Però sull'aspetto, diciamo, gestionale del pubblico, no? C'era nulla. Quindi tutto era un po' demandato, diciamo, alla buona volontà, alla sensibilità di chi organizzava l'evento, terzo conto che appunto poi, diciamo, alla luce di chiarimenti che ho detto prima, non erano nemmeno sottoposti a una, o magari a una prescrizione, possibile prescrizione da parte della commissione. Va bene? Ecco, nei circolari, dopo i fatti di Torino, ecco, su questo, diciamo, cambiano queste cose, insomma, che vi ho detto, nel senso che, diciamo, vedremo che è stato stabilito che per qualsiasi tipologia di manifestazione, pubblico spettacolo o comunque manifestazione in luogo pubblico, che anche, che non rientri tra, diciamo, quelle individuate come pubblico spettacolo, c'è la necessità che, diciamo, dal punto di vista della safety e anche della sicurità, però della sicurità, diciamo, che sono tutti attempiamenti che poi fanno capo all'autorità di pubblica sicurezza, ma soprattutto per la safety, quindi poi si riguarda un aspetto organizzativo e gestionale di chi organizza la manifestazione, bisogna porsi, diciamo, delle domande e delle risposte. Quindi, la circolare Gabrielli, in pratica, dà degli obiettivi che bisogna, diciamo, raggiungere quando si organizza una manifestazione in luogo pubblico. Allora, innanzitutto, ecco, si definisce che un'area pubblica deve essere, diciamo, quando ci si organizza su quest'area pubblica un evento di spettacolo, di intrattenimento, bisogna controllarne l'affollamento. In passato, prima di questa circolare, un'area pubblica era, appunto, libera e quindi non c'era nessun limite all'affollamento. Adesso la si riteneva sicura, diciamo, a priori, ma così non era e non è. Quindi, diciamo, che per una corretta gestione degli eventi io non posso, diciamo, sovraccaricare in maniera eccessiva dal punto di vista dell'affollamento un'area, perché chiaramente questa mi porterà dei problemi anche di panico che, diciamo, possono essere fortemente esaltate, proprio in virtù, diciamo, del numero di persone che sono presenti. Affollamento che, diciamo, deve essere, vedremo, sarà rapportato un po' a quanto è grande la superficie di queste aree. E un po', diciamo, al fatto che in caso di emergenza, siccome le persone devono allontanarsi in sicurezza, in base alla larghezza delle strade di accesso, che sappiamo che, diciamo, l'esodo, come un fluido, è facilitato dalle dimensioni delle strade, quindi più sono larghe le strade, più, diciamo, l'esodo può avvenire e mi porta via più persone. Quindi, cerchiamo, questa circolare dice, io devo limitare l'affollamento in base, quindi alla superficie, in base alla larghezza degli accessi. La previsione possibile di percorsi separati, tra chi entra e chi esce, questo perché? Perché in genere questo permette una maggiore e una migliore ripartizione delle persone nell'ambito della manifestazione, perché se si entra e si esce dal stesso punto, è capitato magari di osservare che normalmente c'è una concentrazione delle persone proprio in prossimità di dove si entra, mentre le poste, diciamo, collocati in maniera distante, in punti distanti dall'accesso, si mantengono meno affollate. Ecco, diciamo, la previsione di un piano di emergenza e di evacuazione, quindi definire comunque delle procedure da attuare per una gestione in un possibile dell'accesso. Ecco, suddividere in settori l'aria, la suddivisione degli stessi settori dell'aria allo scopo appunto di che delle turbative, diciamo, in alcune aree, a Torino è stato un esempio, non si ripercuotono come, diciamo, un sasso nello stagno su tutta la superficie dello stagno stesso, ma, diciamo, in un certo e qual modo trovano una barriera e quindi ne limitano l'impatto. Avere un numero di persone formate, qui però, diciamo, c'è il discorso appunto sul tipo di formazione da fare, degli spazi da dedicare al soccorso, diciamo, e anche di supporto, diciamo, alle autorità pubbliche chiamate a garantire una sicurezza degli eventi. Ecco, vedete che il circolare di Gabriele comunque non quantizzava, diciamo, questi requisiti, diciamo, individuava, era una norma di, diciamo, una circolare di principio da attuare. Ancora, ecco, parla della necessità di installare una diffusione sonora e questo chiaramente è una risposta migliore a quelle che prima dicevamo delle istruzioni, cioè una diffusione sonora è anche visiva, diciamo, i portatori di handicap magari uditivo, ma diffusione sonora è, diciamo, è vista in questa circolare come elemento per fornire istruzioni in una situazione di emergenza, quindi chiaramente deve essere gestita comunque da persone che abbiano, soprattutto, diciamo, in primis una visione sull'area dello spettacolo e anche una capacità poi di diffondere una certa tipologia di messaggio per, diciamo, tranquillizzare e dare le indicazioni opportune in caso di evento. Poi, chiaramente, c'è già, c'è anche, diciamo, quello di evitare che ci possano essere attività che in un certo qual modo, per esempio, tipo la vendita di alcolici e chiaramente, diciamo, turbando un po' le caratteristiche, diciamo, comportamentali degli individui potrebbero essere da turbativi. Poi, diciamo, la circolare Gabrielli dà anche delle indicazioni sulla security, ma diciamo che queste indicazioni security, diciamo, hanno una valenza che riguarda sostanzialmente l'attività di pubblica sicurezza, quindi sono delle indicazioni, diciamo, per omogenizzare l'attività delle questure, ecco, successivamente al circolare Gabrielli, visto che era una norma, appunto, di principi, c'è stata una circolare del nostro capo di dipartimento di Rigidefuoco, Frattasi, il quale ha fornito, diciamo, un'indicazione su come quantizzare quei requisiti che, diciamo, la circolare Gabrielli dà, cioè su come l'affollamento, sì, ma quante persone ci mettono, insomma, non le uscite, ma quante persone possono entrare, possono uscire, i settori, come li facciano, insomma, allora, diciamo, questa circolare, diceva, guardate, si può, dal punto di vista della safety, fare riferimento a due decreti fondamentali, il decreto 18 marzo, che riguarda le attività di impianti sportivi, e il decreto 19 agosto 96, ma comunque, ecco, diciamo, una certa, diciamo, linea, un indirizzo di omogeneità, poi, infine, l'ha data questa, quest'ultima circolare, Morcone, la quale, diciamo, in maniera, poi, su alcune cose vedremo, saranno discutibili alcuni parametri, però, dà delle indicazioni molto precise su come, ecco, affrontare e gestire i diversi punti indicati dalla circolare Gabrielli. Innanzitutto, ecco, questa circolare Morcone fa una distinzione tra manifestazioni in luogo pubblico e manifestazioni di pubblico spettacolo, va bene? Allora, la manifestazione in luogo pubblico è una manifestazione che non è soggetta ad autorizzazione, diciamo, nel senso che è da parte del, come pubblico spettacolo, va bene? E, quindi, diciamo, è una manifestazione dove, diciamo, c'è un obbligo di dare un preavviso al questore e, diciamo, questa tipologia di manifestazione viene trattata nell'ambito del Comitato Provinciale per l'Ordine della Sicurezza Pubblica, va bene? La quale, diciamo, definisce le caratteristiche e i requisiti che devono essere assicurati per un, diciamo, un esercizio sicuro, sicuro della manifestazione stessa. Ecco, tenuto conto degli aspetti di safety, questa circolare ha detto che nell'ambito di questo Comitato che normalmente non fanno parte i vigili del fuoco è chiamato, diciamo, ad intervenire, diciamo, anche il Comandante Provinciale del Cifo. Ecco, questo, diciamo, questo Comitato, quindi, valuta gli aspetti di safety e di security e può, diciamo, effettuare anche dei controlli e indica quali sono, diciamo, le persone che devono essere sempre presenti. La seconda tipologia, invece, sono le manifestazioni di pubblico spettacolo. Ora, per le manifestazioni di pubblico spettacolo, ecco, diciamo che questa circolare lo ribadisce subito, cioè, la competenza rimane in capo alle commissioni provinciali rigida, cioè, solo, quindi, nella sostanza, appunto, diciamo, non è cambiato, non è gran che. Ecco, la novità dove sta? Qualora, siccome la commissione fa un primo esame sul progetto e poi va a fare le verifiche, va bene? Quindi, questa circolare dice, se la commissione provinciale o comunale di vigilanza, durante l'esame dei documenti, va bene? Tenuto appunto a dare un parere, rilevi, diciamo, che l'evento possa, diciamo, comportare un potenziale, diciamo, innalzamento di quello che è il rischio per le persone, va bene? Ne dà comunicazione al prefetto, va bene? E quindi, diciamo, a questo punto si attiva un po' quello che è previsto per le manifestazioni in luogo pubblico, cioè, c'è la possibilità che il comitato, diciamo, indichi individui delle ulteriori misure, va bene? E, diciamo, poi, chiaramente la commissione provinciale o comunale di vigilanza verificherà in occasione del sopralluogo. Quindi, diciamo, che se per una manifestazione in luogo pubblico spettacolo, diciamo, non si ravvisa questa necessità, tutto viene gestito come veniva gestito prima, quindi, diciamo, quindi che questa circolare fondamentalmente trova sicura applicazione per quanto riguarda le manifestazioni in luogo pubblico, ma non è detto che debba essere, diciamo, seguita per le manifestazioni di pubblico spettacolo. Questa, ecco, questa circolare, vedete, diciamo, dà un percorso su quelle che sono le misure e su come valutare queste misure. Innanzitutto, vedete, diciamo, una metodologia consolidata, fa una classificazione sul rischio della manifestazione, individua tre tipologie di manifestazione, basso, medio e elevato, in base a un punteggio, punteggio che esce fuori da delle tabelle, queste sono state, diciamo, tabelle che usa, diciamo, 118 per definire, diciamo, l'organico e la forza da mettere in campo durante una manifestazione, sono state tabelle, diciamo, con qualche correzione, adottate anche per definire i requisiti di sicurezza e quindi vedete che a secondo dell'evento, vedremo poi a secondo della tipologia di pubblico, ci sono degli indici numerici e alcuni, a mio avviso, c'è qualche errore sul segno, ma comunque se ne può condividere, insomma, si può essere più o meno d'accordo, però comunque questi sono quelli che sono stati individuati e quindi sulla base di questi indici, ecco qui riguardo il pubblico, si classifica l'evento basso, medio, alto rischio, tenendo presente comunque che se l'evento prevede la presenza di più di 10.000 persone, questo, diciamo, di default, viene classificato e venda ad alto rischio, va bene? Ecco, una volta classificato l'evento, la circolare dice comunque che noi tutto quello che vi diciamo l'abbiamo tirato fuori da quelle norme che abbiamo già visto, cioè il decreto 19 agosto, 18 marzo, è stato aggiunto il decreto 10 marzo 98 che è un decreto che riguarda già dalla metodologia di valutazione del rischio nei luoghi di lavoro, che diciamo dà delle indicazioni aggiuntive. Allora, accesso all'aria, primo requisito abbiamo visto l'accesso, cioè deve essere la possibilità che i mezzi di soccorso arrivino, sono stati indicati i requisiti canonici, dell'accesso, la larghezza, l'altezza, la curvatura delle strade, la pendenza, insomma quegli requisiti che noi oramai come Vigilio del Fuoco chiediamo un po' per tutte le attività. Ora vedete che si dice, se l'attività ha basso rischio, vabbè, l'accesso non è necessario che poi arrivi proprio nell'area della manifestazione, basta averlo, diciamo, in una distanza, se i 50 metri è chiaro che adesso i 50 metri se sono 51 se sono 52 è uguale, insomma, quindi diciamo che è una distanza che deve stare in queste, nell'ambito del numero indicato, dei 50 metri. Per il rischio medio ed elevato invece, per il medio chiede che si debba arrivare con i mezzi di soccorso all'interno dell'area, per il rischio ed elevato chiede anche un'area di ammassamento, quindi un'area dove stazionano i mezzi, diciamo, degli enti preposti a garantire la sicurezza per, diciamo, per una possibile gestione di scenari configurabili come maxi emergenze, quindi in una maniera strutturata, quindi preparato per degli eventi che potrebbero evolvere, diciamo, in una situazione di criticità. Poi ecco il discorso degli accessi separati, dicevamo il perché, la circolare Gabriele diceva, beh fate l'accesso che non coincida anche con le uscite, perché diciamo lì c'è un flusso che si contrappongono e quindi c'è una difficoltà, ecco su questo per la verità comunque la circolare Morcone dice, per il rischio basso non è proprio necessario fare. Per il rischio elevato, vedete, se il luogo è di tipo permanente, dice, se era prevista nel progetto la si fa, quindi perché vedete, in tipo permanente sicuramente era una manifestazione già autorizzata e verificata dalla Commissione, quindi non va a turbare situazioni già definite, perché potrebbero essere di difficile attuazione, ma lo si prevede solo qualora ci debba essere la necessità di modificare un po' il sistema di esodo, diciamo che per quelli all'aperto usati occasionalmente, comunque se lo facciamo va bene, se non si riesce a fare, non è un qualcosa a mio avviso, ripeto, è anche vero che se io faccio una manifestazione di rischio medio elevato, sicuramente ho più possibilità di accesso, comunque in una situazione di emergenza diciamo che questa necessità non c'è, perché se vedo che le persone stanno defluendo e io non sono ancora entrato, è difficile che io cerchi e cerchi di entrare, quindi diciamo che questo dell'obiettivo dei flussi separati è un qualcosa che se si fa, va sicuramente bene, se non si riesce a fare, come si dice non di faccere la testa, nel senso che si può ovunque gestire con una buona organizzazione. Poi la capienza, ecco la capienza si diceva, dobbiamo mantenere diciamo la flussa entro certi limiti, i limiti diciamo, quindi questa circolare li definisce e sono quelli che appunto sono presenti nel decreto 19 costo 96, sono gli indici di affollamento che vanno da 1 e 2, diciamo, 1 e 2 riguarda le discoteche e 2 che appunto riguarda gli impianti sportivi quando questi vengono utilizzati per manifestazioni nel campo da gioco, per manifestazioni di spettacolo e quindi diciamo che appunto vedete si prende 1 e 2 quando si tratta di salve a ballo, discoteche e si prende diciamo una densità di affollamento fino a 2 per tutti gli altri casi. Poi dicevamo della larghezza delle strade, ecco la capacità di deflusso viene fissata in 250 persone a modulo, cioè significa che se la strada diciamo ha una larghezza di ogni modulo su 60 cm, quindi si prende la larghezza della strada in cm, si divide per 60 e escono fuori i moduli, questi moduli si moltiplicano per 250 e esce fuori diciamo il numero di persone che quella strada può far defluire in sicurezza, quindi se la strada per dirla è 6 metri, i moduli sono 10 e diciamo da quella strada di 6 metri possono uscire 2500 persone, quindi diciamo moltiplicando poi per tutte le larghezze esce fuori la capacità di deflusso del sistema viario che è presente. Ecco la larghezza dell'esodo chiaramente devo avere varchi sufficientemente larghi, la circolare fissa 1,20 m, sicuramente lì è presente. Ecco il problema dell'affollamento è che chiaramente io una volta che ho stabilito il numero, devo poterlo verificare, quindi diciamo che non è che diciamo uno dice io ho un'area di 5000 m2, lo moltiplico quel 2, prevede un affollamento di massimo 10.000 persone, ma qui c'è la necessità di verificare che effettivamente il numero di 10.000 persone che ho stabilito come massimo non sia diciamo superato, quindi devo crearmi, devo un sistema che mi consente questo controllo, quindi posso dare dei titoli di accesso per un massimo di 10.000, posso procedere a un controllo contanto in maniera automatico o anche attraverso manualmente con le contapersone e quindi diciamo che i VAR che ecco diciamo devono essere in un certo qualunque... ... ... Allora un secondo, si vede che la rete della regione ha avuto un piccolo problema, vi chiedo di attendere qualche secondo e si verrà tutto ripristinato. Si raggiunge? Sono in linea? Sì, ora sì, prego. Sì, chiedo scusa dell'interruzione della trasmissione, come si dice, adesso posso riprendere. Dicevo, se non sbaglio è saltata la comunicazione, mentre dicevo che praticamente bisogna, nel momento in cui va definito un affollamento dell'area, va strutturato un sistema di controllo di questo affollamento, che può essere in varie forme, attraverso un sistema di titolo gratuito, nel numero massimo dell'affollamento stabilito, oppure attraverso un sistema di conteggio e quindi l'area non è che ha un obbligo di delimitazione proprio stretto, ma può essere, l'accesso può essere controllato anche attraverso il presidio di Stuart, che in collegamento, se ci sono più punti di accesso o comunque in collegamento tra il punto di di deflusso, per contare le persone e quindi fermare il flusso, se la manifestazione è importante anche con l'ausilio delle forze di folezia, perché si è raggiunto il numero stabilito. Il conteggio va bene, perché dicevamo 10.000 persone, se poi sono 10.010, 10.020 non è che mi debba preoccupare che ci siano 10 persone in più in un contesto di questo tipo, il problema è stare, non discostarsi molto da quel numero, perché se le 10.000 ce ne stanno 20, oggettivamente le cose non sono le stesse. Ecco, dicevamo controllo degli accessi, è chiaro che il controllo degli accessi alcune volte lo si fa, un po' per carenza di personale, un po' perché è un'abitudine purtroppo consolidata e c'è l'uso di transenne. Io personalmente sulle transenne ho molte riserve, nel senso che oggettivamente sono un ostacolo per l'esodo e quindi andrebbero vietate, però diciamo in una situazione di presidio adeguato si accettano, però diciamo ne va limitato il più possibile l'uso. Qui parliamo della suddivisione in settore, sicuramente le transenne mobili non vanno affatto bene per delimitare dei settori, quindi creare delle aree che dicevamo evitare che un evento che turba la manifestazione, un evento di panico, possa poi ripercuotersi su tutta la manifestazione. Le transenne che vanno usate sono le cosiddette transenne antipanico, che garantiscono una resistenza al ribaltamento e quindi non creano un inciampo, un ostacolo all'esodo. Se non sono disponibili transenne tipo antipanico, le transenne di quelle cosiddette mobili devono essere adeguatamente assicurate, magari con degli elementi di rigidimento trasversali proprio perché non devono facilmente ribaltarsi. Per quanto riguarda i settori, per il rischio basso vedete la circolare dice vabbè comunque il rischio basso non ho necessità di creare dei settori all'interno dell'area dell'amministrazione. Quando passiamo però al rischio medio, dice per affollamento superiore a 5.000 persone devo realizzare almeno due settori, due settori quindi 2005-2005, tutto sommato sono numeri che in effetti consentono di gestire con più tranquillità una possibile emergenza. È chiaro che se io realizzo dei settori, devo però avere che ogni settore deve poter defluire in maniera autonoma, quindi senza creare come si dice dei cul-de-sac, quindi dei percorsi unidirezionali che tenderebbero a creare una sorta di ingorgo per fare un paragone col traffico e quindi sicuramente ci devono essere dei percorsi contrapposti all'interno di ogni settore in modo che il pubblico possa ripartirsi e quindi evitare questi fenomeni di effetto ad arco che in pratica poi impedirebbero del tutto l'esodo delle persone. Quando si passa al rischio elevato si dice che i settori bisogna farne almeno tre. La circolare mi dice che puoi fare dei settori anche mediante la realizzazione di aree presidiate da Stuart. Io personalmente la vedo un po' difficile questa cosa, difficile perché è una situazione di panico, lo Stuart fa poco, nel senso che si trova in mezzo a masse considerevoli, quindi se il settore deve essere fatto come deve essere fatto, va organizzato con elementi fissi che hanno una certa resistenza, si possono prevedere dei varchi di passaggio limitati, residiati, ma la dimensione prevalente di separazione deve essere, la linea di separazione prevalente tra i settori deve essere fatta con strutture che hanno una certa solidità. Nell'ambito dei settori, dal punto di vista del soccorso c'è la grossa problematica che c'è per i grossi eventi è quella di prestare soccorso a chi sta nel fronte palco, normalmente al fronte palco ci si riesce perché c'è la transenda che separa il pubblico dal palco e quindi le operatori sanitari che sono poi le problematiche maggiori che si riscontrano anche in condizioni ordinarie e non emergenziali, il grosso problema è quello di prestare il soccorso nella parte centrale, in prossima età del palco, quindi per le attività a rischio medio elevato, soprattutto elevato, è opportuno oltre a creare dei settori, prevedere delle aree che consentono agli operatori soprattutto sanitari, di prestare un soccorso a chi si trova nel mezzo della folla che è soggetta a compressioni, quindi problematiche di difficoltà di respirazione, quindi i soggetti che hanno determinate patologie creano problemi di salute. Poi c'è la predisposizione dei mezzi antincendio, qui c'è una tabella che dice un po' quanti estintori mettere, del fatto che ci debbano essere un po' delle risorse idriche disponibili in prossimità dell'evento. Poi c'è il piano di emergenza, sul piano di emergenza la circolare definisce alcuni requisiti fondamentali, innanzitutto il fatto che ci debba essere qualcuno che coordina, quindi qualcuno che ha la responsabilità di queste cose e quindi che sappia gestire un po' le azioni da mettere in atto dell'immediatezza dell'evento e quindi tutte le procedure che bisogna, soprattutto dell'evacuazione della manifestazione e per prestare assistenza soprattutto anche alle persone diversamente abili. Quindi diciamo che dove prevedo, come tra l'altro l'obbligo di fare, aree per persone diversamente abili, devo destinare un certo numero di persone che gestiscano queste persone proprio perché per la maggiore difficoltà che incontrano in certe situazioni debbano essere adeguatamente supportate. Ecco, è importante che ci sia la possibilità di comunicare al pubblico perché in una situazione di emergenza è bene anche rassicurare per certi aspetti in relazione, anche soprattutto quando ci possono essere dei falsi allarmi che se non opportunamente gestiti, se non opportunamente veicolati possono essere causa di danni alle persone. Ecco, questa circolare dice che se sei in una situazione di rischio basso puoi anche usare un megafono, va bene? Se sei in una situazione di rischio medio elevato devi avere un sistema elettrico dedicato che consente di dare questo messaggio. E' chiaro che il messaggio è che in una situazione all'aperto deve essere opportunamente coordinato con la manifestazione, nel senso che dal punto di vista progettuale, nel momento in cui viene predisposto, io devo far sì che nel momento in cui si attiva il messaggio, io devo necessariamente azzerare, annullare la musica in determinato istante oppure il sonoro della manifestazione, perché altrimenti vedete che la problematica è da gestire, per certi aspetti non è, anche dal punto di vista impiantistico, non è nemmeno semplice, non è difficile, senza che se affrontate col tempo si fa, ma sicuramente il messaggio sonoro, diciamo il sistema sonoro di avviso al pubblico deve essere opportunamente coordinato in modo che sia con la manifestazione, in modo che sia efficiente ed efficace. Infine, gli operatori della sicurezza, abbiamo detto ci deve essere una certa informazione, ci deve essere una certa formazione, ma il quanto, e questa è una problematica che riveste anche le attività ordinarie, quanti operatori debbo avere che siano lì pronti, disponibili per fare quelle due o tre operazioni semplici per aiutare a che le cose vadano per il verso giusto? Ecco, diciamo che la circolare indica nel numero di 4 operatori minimo per il rischio basso, di 6 operatori minimo per un rischio, diciamo, medio, 4 fino a 200 persone, 6 da 200 fino a 1000 persone, per il rischio medio elevato, diciamo, c'è un'unità ogni due persone, 250 persone presenti. Ecco, io ribadisco un po' quello che ho detto all'inizio, sugli operatori bisogna fare delle formazioni adeguate, il problema è che qui dice io faccio una formazione per rischio elevato, però, intendiamoci, la formazione per rischio elevato è una formazione che è standard, è standard, quindi, se io questa formazione non la, diciamo, colloco all'interno dell'evento, quindi dell'area, è chiaro che, come si dice, piuttosto che niente è meglio piuttosto, nel senso che, vabbè, è un elemento formato, sicuramente qualcuno che ne sa di più degli altri, però, diciamo, che per essere, diciamo, sfruttare al pieno questa mia formazione, questa formazione di questi addetti, devo poi, diciamo, il responsabile deve curare che le cose che questi sanno riescano poi a, diciamo, ad attuarle nell'ambito della manifestazione, quindi ci vuole una formazione specifica su, in relazione al contesto, dove, dove mi trovo, e soprattutto, ci deve essere una formazione che sappia come gestire le masse, da un punto di vista comportamentale, e questo, purtroppo, la formazione attuale, su rischio basso, medio, elevato, non c'è, quindi, diciamo, che questo deve essere anche uno stimolo, di fare sì che ci sia, diciamo, un'evoluzione formativa di queste specie, per queste tipologie di manifestazioni. Io con questo ho concluso e vi ringrazio. Allora, si, subentro io qualche minuto. Allora, Ingegner Prince, c'è nel box dedicato, ho riportato tutte le domande dei partecipanti, se vuol darci un'occhiata e iniziare a rispondere a qualche domanda, abbiamo ancora un 10 minuti per poter stare insieme. Dunque, le do qualche minuto e nel frattempo, nel frattempo che arrivano ancora altre domande, quelle le prenderò successivamente e poi le invierò all'ingegnere. Volevo far presente ancora a tutti quanti che, come per ogni webinar, troverete tutte le slide e la registrazione tra qualche ora, sempre sulla pagina di eventi dedicata, c'è il nodo 188653, l'indirizzo è http2.w.it.formets.it, nodo 138653, la stessa pagina nella quale vi siete iscritti. non appena l'ingegnere... Allora, sì, io posso dare già questa risposta, posso rispondere a... Prego, prego, risponda alle domande che preferisce. Questa sulle fiere, posso... Allora, io qui vedo, mi si chiede, dice, manifestazioni fieristiche, quindi manifestazioni fieristiche, ieri non sono attività di pubblico spettacolo, quindi comunque sono soggetti alla comunicazione alla questura, la quale valutare darà, però per queste, per tutte le manifestazioni, ecco, quella circolare Morcone, ecco, una circolare che riguarda sia manifestazioni pubbliche e anche qualunque esse siano, spettacole o no. Per le manifestazioni fieristiche il problema non è prevedere quante persone affluiscono, per le manifestazioni fieristiche, diciamo, in base all'area si determina qual è il numero di persone che possono essere presenti, quindi se io ho, diciamo, delle bancarelle, dei punti di vendita, che si colloca in una certa area, in base all'area, diciamo, si viene stabilito un indice di affollamento, quindi si dice, in quest'area possono affluire 2.000 persone. Bene, questo è un dato che appunto viene valutato in fase, diciamo, di comunicazione adesso, che viene fatta quest'ora e quindi gli organizzatori devono verificare che questo numero non venga superato, cioè nel senso che non è che si dice, ma io non so quante persone arrivano e quindi non so quanto mettere, ma il quanto mettere te lo dice la circolare, nel senso che tu dici, puoi usare un affollamento di massimo 2 persone a metro quadro, quindi dici, quanti sono i metri quadri che ti rimangono, tolte le bancarelle, tolti, diciamo, i carri, i mezzi che, diciamo, si sono poi utilizzati per la vendita, quella è la superficie, moltipliche, nella migliore dell'ipotesi, per 2, quello è il numero e poi ti devi organizzare agli accessi per non fare in modo che, appunto, come dicevo, l'affollamento sia mantenuto, diciamo, qua entro i limiti dati. Poi, mi si chiede, per esempio, una manifestazione che si svolge in un ambito scolastico, no? È soggetto, diciamo, a... Allora, in ambito scolastico c'è una norma, va bene? La norma è sulle attività scolastiche. La norma sulle attività scolastiche definisce esattamente come, quali sono i requisiti che deve avere un locale destinato ad attività di questo tipo. A mio avviso, essendo, diciamo, un'attività privata, perché diciamo che possono, non è aperta a tutti, normalmente vanno i genitori, i bimbi, quindi a mio avviso, salvo che la manifestazione, come a me è capitato in alcuni casi, che si voglia far pagare un biglietto, quindi diventa, diciamo, un'attività poi imprenditoriale, no? Dove può accedere chiunque, quindi io, se non ci sono questi aspetti, lo gestirei come attività privata e quindi, a mio avviso, non è soggetta alla verifica senza dell'articolo 80 del TULPSI. Quindi, diciamo, è chiaro che poi all'interno dell'edificio scolastico tutti gli obblighi e sulla garanzia di sicurezza fanno capo al dirigente scolastico per garantire la sicurezza non solo degli alunni, ma anche dei genitori che vi partecipano, come un po' di personali in senso lato. Dicevamo, esercizio pubblico, allora, se nell'ambito dell'esercizio pubblico non c'è un'area appositamente organizzata, nel senso che se io ascolto la musica, se io guardo, diciamo, delle immagini oppure anche delle esibizioni, mentre sto mangiando, sto acquistando qualcosa, non si configura attività, attività, diciamo, di pubblico spettacolo. Se invece, diciamo, nell'ambito del servizio di questo pubblico esercizio organizzo, per esempio, io ho la TV, la TV la posso osservare mentre prendo qualcosa al banco, mentre mangio, però se io organizzo una sala, diciamo, apposita, dove con la TV, diciamo, guardo un evento, guardo, diciamo, una partita di calcio, va bene? E quindi alla stregua di un cinema, allora quella sala appositamente attrezzata per guardare la TV o anche per ascoltare qualcuno che si esibisce diventa pubblico spettacolo, quindi poi fino a 200 è soggetta, diciamo, alla procedura semplificata, oltre 200 è soggetta in toto a una verifica, che ha un parere e una verifica della commissione e di vigilanza. Può scorrere anche altre domande? Adesso vediamo, scorro un po'? Sì, sì. Altre domande? Io adesso le sto prendendo un po', quindi, come vengono, quindi, diciamo, poi si chiede come comportarsi con il piano di sicurezza nel caso di una situazione, con eventi che si svolgono con un interimperanamento a cura di soggetti diversi in agre contigue. Allora, è chiaro che qui bisogna, come si dice, quando si valuta nell'ambito del luogo di lavoro, le interferenze che ci sono fra le diverse manifestazioni, nel senso che se le manifestazioni non hanno interferenze, è chiaro che ognuno può farsi un piano, diciamo, di sicurezza e autogestizia. Il problema nasce se c'è, appunto, interferenze. In questo caso c'è la necessità di fare un piano, come si dice, di sicurezza e coordinamento, quindi nel senso che i due soggetti devono coordinarsi, anche da un punto di vista del messaggio dell'emergenza, in quanto entrambe le manifestazioni devono, diciamo, in caso succeda qualcosa nell'uno, anche nell'altro, si devono attivare delle procedure. Quindi c'è la necessità, appunto, di un coordinamento alla strada di quello che si fa, diciamo, in un'attività anche lavorativa. Poi... Allora, da parte... Scusate, ma è abbastanza lunga, questa è troppo lunga, quindi solo a leggerla, mi fanno via i due minuti che mi rimangono. Allora, quale normativa ha escluso l'esposizione, mostre e fieri dei locali di trattenimento? In realtà, la normativa è stata, o diciamo, un po' un chiarimento, c'è stato un chiarimento che poi magari lo metteremo in rete e ve lo darò, nel senso che un chiarimento del Ministero nostro dell'interno, ma ancora prima un pronunciamento del Dipartimento di Pubblica Sicurezza, a seguito appunto anche questo è un chiarimento, dove, diciamo, ha detto che praticamente l'esposizione, le mostre e i fiere, tra l'altro, ha un chiarimento sempre nel comando di Bologna, il Ministero ha detto per le mostre, fiere e l'esposizione, se si fanno, ecco, se si fanno attività di spettacolo all'interno di queste mostre e fiere, allora quello, diciamo, va gestito come evento di pubblico spettacolo, ma se manca questo, no, e allora in pratica non c'è una norma che lo dice, sono questi chiarimenti, vedete presente che mostre e fiere ed esposizioni centravano perché venivano indicati in una circolare, perché non c'è nemmeno la circolare 16 che diceva che le mostre e fiere erano soggette, quindi è questo fatto che non essendoci una norma che dica esattamente quali siano i locali di pubblico spettacolo di trattenimento, dicevo, si fa riferimento un po' a delle circolare, dei chiarimenti dove si traggono poi queste valutazioni. Allora, se c'è solo somministrazione non ricorre l'obbligo dello spettacolo? Assolutamente no, quindi diciamo che dove si mangia, dove si beve, assolutamente una birreria non è un'attività di spettacolo, quindi non va affatto… Allora, scusate se intervengo, ma il tempo a nostra disposizione sta terminando, abbiamo superato le ore 12, dunque mi dispiace perché è stato veramente un webinar molto interessante, le domande sono ancora tante, dunque io le invierò tutte le domande e così prossimamente nei prossimi giorni con un po' di calma, lasciando il tempo ai relatori di poter rispondere a tutte le domande, saranno poi pubblicate sulla stessa pagina di eventi. Allora, io ringrazio veramente tutti voi, ringrazio l'ingegner Prince per la sua disponibilità, per aver tenuto questo webinar così interessante, ringrazio nuovamente la dottoressa Paron che appunto si fa promotrice di questi webinar nel nostro percorso di formazione, ringrazio tutti voi e ci risentiremo presto per i prossimi eventi che organizzeremo. Grazie ancora a tutti!